Dicevo, Britney Spears è una ragazzina che a 8 anni fa la prima audizione per Disney Channel, verrebbe selezionata ma è veramente troppo piccola, poi la prendono a 11 anni, adesso ha 17 anni e ha stabilito proprio il 30 gennaio 1999, quindi esattamente 3 giorni fa, ha stabilito una serie di record incredibili, cioè, tanto per cociare comunico che noi qui abbiamo soltanto questo singolo perché il disco, l'album deve ancora uscire in Italia, però è appena uscito in America, l'album si chiama come il singolo Baby One More Time, bene, il singolo era primo in classifica e anche l'album è andato primo in classifica in America, ma vi dico i record, Britney Spears è la prima artista donna esordiente ad occupare contemporaneamente nella stessa settimana il primo posto nelle classifiche americane dei singoli e degli album pubblicati, è la prima artista esordiente in assoluto tra donne e uomini a raggiungere contemporaneamente la prima posizione di entrambe le classifiche, è la prima artista esordiente in assoluto donne e uomini ad avere un singolo che raggiunge il primo posto in classifica nella stessa settimana in cui l'album esordisce al numero uno, è l'artista più giovane tra le donne nella storia di Billboard ad aver occupato nella stessa settimana le prime posizioni di entrambe le classifiche, per la prima volta nella storia di Billboard un singolo e un album dallo stesso titolo raggiungono contemporaneamente il numero uno e allora a questo punto noi lo ascoltiamo, questo fenomeno di ragazzina e di brano Baby, one more time, Britney Spears on the stage! Baby, one more time, won't you know that something was raise? Baby, one more time, taste like ULM, AAsia screen tagARE tutti i geni non Grazie a tutti 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 No one's told you this No No But you know that you are number one in USA with the album, with the CD and the single Right, right Yeah But that was the first time for five reasons, it's a record, the first time that a girl was on top of the charts with the same title Are you serious? Well, yeah No, 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 I'm serious Non lo sapeva lei, lei non sapeva nulla di tutto questo I translate to you because da qualche parte ce l'ho ancora Lei non sapeva nessuno gliel'ha detto E in effetti è appena arrivato It's a fact, it's just arrived Someone to explain to you because you are the first artist of singles and album So never happened before Yeah, I didn't know that Oh, cool The first artist, male and women, to be contemporaneously, first on the tops of the charts of the same, the first, ah, the first new artist to be on top of the charts with single and album Never, never happened Cool, yeah, I know that Sto traducendo, nessuno gliel'ha detto, questo è bello, no? E la prima artista esordiente dunque Il primo nuovo artiste, male e uomini, a avere un singolo che è stato prima sull'immagine nella stessa settimana in cui l'album è arrivato alla stessa. In cui io ho detto. E il più piccolo artiste, tra le donne, nella storia di Billboard, è stato... E la prima volta nella storia di Billboard un singolo e un album con il stesso titolo che sono sull'immagine. Sì, grazie per mi raccontare questo, grazie. Non parevi così felice. Sì, sì, sì. Una volta qui ci sarò, ma ho cercato di essere felice ora. Cerca di darci un contenio adesso, però quando andavo fuori, fa tipo fantastico che correva fuori, poi scappava e faceva... È sorprendente che non sai questo. Sì, ma è un fatto che è arrivato ora. Grazie. Grazie mille. Ci vediamo dopo, parliamo un po' dopo. Britney Spears, che contemporaneamente nel momento in cui è qui raggiunge la prima posizione in America con singolo e album. E noi diamo la linea a Firenze. Ci vediamo fra un attimo qui con Roxy Barr e arriverà un altro artista straordinario. Ci vediamo fra un attimo. Riccardo Eccoci in contatto con Roxy Barr è arrivato il Faxi Conferma con un grande abbraccio a Britney il Faxi Conferma prima in classifica. Eccolo qua, il Billboard 800 del suo album e del suo single Baby One More Time, Britney Spears. Però la cosa curiosa è che questa ragazzina è da fin da piccola. che hai deciso di stare all'interno quando ero un bambino quando ero un bambino Poce ero un bambino e ho voluto cantare. Ho voluto cantare? Mh. E che cosa eravessi fatto? Stavo cantando, danzando e attivando. Ma le cani Mickey Mouse? No, no, no. Favessi cani che erano popolari al tempo. Allora lei è entrata nel Mickey Mouse Club e cantava, faceva queste cose. E poi adesso, a 17 anni, ha battuto cinque record essendo numero uno con l'album e con il singolo. Adesso noi ascoltiamo... Questo sarà il prossimo singolo, Sometime. Allora, Britney Spears con quello che sarà il prossimo singolo, Sometime. Ciao! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chris Pears, dal vivo!